Ciano Connor, good luck, 11 anni, stallone, canturo per Furioso e qui nonostante il ritiro di Allen, se Ciano Connor dovesse fare un percorso senza errori comincerebbe a mettere una serie ipoteca su questo campionato europeo. Ciano Connor quando bisogna tirare fuori telecarte lo fa, è un cavaliere di grandissima esperienza che sa destreggiarti in percorsi complessi come questi, quindi nessuna difficoltà per questo cavaliere irlandese che rimane freddo, questa forse è una delle sue caratteristiche principali, quindi estraviarsi da quello che è il contesto e pensare solo a portare a termine la gara come se tutto il resto in questo momento non esistesse. È importante ragionare così quando si fa questo sport perché se si comincia a considerare quello che c'è prima e dopo poi a volte gli errori vengono per la tensione e non certo per la difficoltà tecnica perché sono cavaliere che hanno visto di tutto, è partecipato a Olimpiadi, a campionati del mondo, quindi certo non è questo percorso. Qui c'è lui che proprio solleva il cavallo e poi in avanti è questo percorso di Connor che è zero e guardate, infatti dai conteggi l'Irlanda sta mettendo una serissima ipoteca su questo campionato europeo, Ciano Connor è stato come dicevo freddo, capace ed è evidente che stia esultando così tanto perché ha fatto...